Ringraziamo Lega Ambiente per averci dato anche in questa occasione l'opportunità di venire ad ascoltare e a raccontare le nostre esperienze, sentire le esperienze di tutti gli altri che come noi credono in un approccio sostenibile, sostenibilità che molti richiamano, che io sintetizzo in una parola sola, responsabilità. Credo che tutti coloro che sono attori delle singole filiere abbiano questo dovere, non stiamo facendo qualche cosa di più, stiamo facendo il nostro dovere che è quello di avere un approccio sostenibile e quindi responsabile. Questo deve essere il denominatore di tutte le nostre attività. Gli obiettivi ambiziosi servono, un passettino alla volta io credo sia utile per raggiungerli, dobbiamo continuamente tendere a migliorare. Se questo è il tema che ci diamo quotidianamente, io credo che tutto sarà più facile e importante con noi. Grazie per farsi sentire un po' soli.